andate a stanare un cervo rosso tra l'erica inseguite a cavallo la volpe se potete ma per unire insieme il piacere e il profitto concedetemi la caccia all'uomo l'inseguimento dell'umano l'esplorazione dell'anima fino alla sua rovina la caccia all'uomo il vecchio shikarri credo che il dissidio sia iniziato per via di un cavallo dal temperamento un po' bizzoso che pinecoffè vendette a nafferton e dal quale nafferton venne quasi ucciso ci possono essere stati altri motivi di risentimento ma il pretesto ufficiale fu il cavallo nafferton si arrabbiò parecchio e pinecoffè ridendo disse che non aveva mai garantito le buone maniere della bestia anche nafferton rise ma giurò che gli avrebbe fatto pagare la sua caduta a costo di aspettare cinque anni ora un valligiano di oltre scapton potrà perdonare un'offesa se non ci scappa il morto ma un tipo del south devon è molle come una palude del dartmoor dai loro nomi si può capire che nafferton aveva su pinecoffè il vantaggio della razza era un tipo particolare con un senso dell'umorismo abbastanza crudele e mi insegnò una nuova e affascinante forma di shikar perseguitò pinecoffènda mitancotra a yagadri da gorghan ad abbottabad e giù per il panjab una vasta provincia e in luoghi particolarmente aridi disse che non aveva alcuna intenzione di lasciarsi abbindolare da un vice commissario nella fattispecie un campagnolo esaltato e petulante senza rendergli la vita impossibile la maggior parte dei vice commissari dopo la prima stagione calda in questo paese sviluppa un interesse per qualche attività particolare i ragazzi dotati di una buona digestione sperano di scrivere i loro nomi a grandi lettere sul confine e si battono per ottenere un trasferimento in posti desolati come bannù e coat i biliosi danno la scalata al segretariato il che è alquanto dannoso per il fegato alcuni vengono presi dalla mania del lavoro nel distretto delle monete gasnavide o della poesia persiana mentre altri che vengono da famiglia di coltivatori scoprono che l'odore della terra dopo le piogge entra nel loro sangue e li spinge a sviluppare le risorse della provincia costoro sono degli entusiasti fine cofenga apparteneva a questa categoria sapeva moltissime cose riguardo al costo dei manzi e dei pozzi temporanei ai raschiatoi per l'oppio e a cosa succede se si bruciano troppi rifiuti in un campo nella speranza di arricchirne il suolo riarso i pine cofendi scendevano da una stirpe di proprietari terrieri per cui le terre si riprese soltanto ciò che già le apparteneva sfortunatamente assai sfortunatamente per lui pine cofenga era un funzionario statale oltre che un coltivatore nafferton lo teneva d'occhio e intanto pensava al cavallo nafferton disse stai a vedere come inseguo quel ragazzo fino a fargli fare un bel capitombolo io dissi non prendertela con un vice commissario nafferton mi rispose che non conoscevo l'amministrazione della provincia il nostro governo è alquanto singolare particolarmente prodigo sul versante dell'agricoltura e dell'informazione generale è disposto a fornire statistiche economiche di tutti i generi a una persona abbastanza rispettabile che gli si rivolga con garbo per esempio se siete interessati alla ricerca dell'oro nelle sabbie del sultei basta che suoniate un campanello e scoprirete che risveglia una mezza dozzina di dipartimenti e alla fine vi mette in comunicazione diciamo con un vostro amico del telegrafo che una volta scrisse delle note sulle usanze dei cercatori d'oro mentre si trovava per dei lavori in quella zona dell'impero lui può essere più o meno soddisfatto che gli si ordini di scrivere tutto quello che sa a vostro beneficio questo dipende dal suo carattere più importanti siete più sono le informazioni che riuscirete ad ottenere e maggiore il disturbo che potrete creare Nufferton non era una persona importante ma aveva fama di essere molto serio una persona seria può ottenere molto da un governo c'era una persona seria che una volta mandò quasi in rovina ma è una storia che tutta l'India conosce io non so di preciso in cosa consista la vera serietà una discreta imitazione la si può ottenere trascurando di vestire in maniera decente gironzolando con aria confusa e trassognata portandosi a casa e il lavoro dopo essere rimasti in ufficio fino alle 7 e ricevendo frotte di gentiluomini indigeni la domenica questo è un tipo di serietà Nufferton si guardò attorno in cerca di un pretesto per far valere la propria serietà e di un campanello che lo mettesse in comunicazione con Pinecoffè li trovò entrambi nel maiale pertanto Nufferton divenne un serio fautore delle ricerche sul maiale informò il governo di un suo progetto che contemplava la possibilità di nutrire una buona parte dell'esercito britannico in India con carne di maiale risparmiando notevolmente poi suggerì che Pinecoffè avrebbe potuto fornirgli le svariate informazioni necessarie al corretto sviluppo del piano così il governo scrisse sul retro della lettera incaricare mister Pinecoffè di fornire a mister Nufferton qualsiasi informazione in suo possesso il governo è assai propenso a scrivere sul retro delle lettere cose che in seguito generano guai e confusione Nufferton non aveva il minimo interesse per il maiale ma sapeva che Pinecoffè si sarebbe dimenato nella trappola Pinecoffè fu felicissimo di venire consultato sul maiale il maiale indiano non costituisce esattamente un fattore importante nella vita agricola del paese ma Nufferton spiegò a Pinecoffè che c'erano le condizioni per un miglioramento e iniziò una corrispondenza diretta con il giovane forse voi pensate che non ci sia molto da tirar fuori dal maiale ma tutto dipende da come si affronta l'argomento Pinecoffè essendo un funzionario statale e volendo fare le cose per bene iniziò con un saggio sul maiale primitivo la mitologia del maiale e il maiale dravidico Nufferton archiviò queste informazioni ventisette fogli di protocollo e volle sapere della distribuzione del maiale nel Panjab e della sua resistenza nelle pianure durante la stagione calda d'ora in avanti tenetelo presente fornirò soltanto i tratti essenziali della vicenda i capi per così dire della ragnatela che Nufferton andò tessendo intorno a Pinecoffè Pinecoffè fece una mappa a colori della popolazione suina e raccolse osservazioni sulla longevità comparativa del maiale a nelle regioni submontane dell'Himmalaya e b nella Reshna Dohab Nufferton archiviò anche questo e chiese informazioni sul tipo di gente che badava ai maiali ciò diede inizio a un excursus etnologico sui porcari che Pinecoffè incorredò di lunghe tabelle intese a mostrare la proporzione per migliaia della casta nel deriat Nufferton archiviò il fascicolo e spiegò che a lui servivano le cifre relative agli stati Cis-Sulteiani dove gli risultava che i maiali fossero molto grossi e belli e dove si proponeva di impiantare un porcile a quell'epoca il governo si erano completamente dimenticati delle disposizioni date da Mr. Pinecoffè erano come i gentiluomini che nella poesia di Kitz azionano ingranaggi ben lubrificati per scorticare altra gente ma Pinecoffè stava appena entrando nello spirito della caccia al maiale proprio come Nufferton sapeva che avrebbe fatto pur avendo una discreta quantità di lavoro d'ufficio da sbrigare rimaneva alzato la notte a ridurre il maiale in numeri di cinque cifre per l'onore del servizio non voleva apparire ignorante su un argomento così facile come il maiale a quell'epoca il governo lo mandò in missione speciale a Coat a indagare sulle grosse vanghe ferrate lunghe due metri in uso in quel distretto siccome con tali pacifici attrezzi erano state uccise delle persone il governo desiderava sapere se una forma modificata di utensile agricolo non potesse a titolo di prove e come misura temporanea essere introdotto tra la popolazione agricola senza irritare inutilmente e indebitamente i sentimenti religiosi dei contadini tra quelle vanghe e il maiale di Nufferton Pinecoffè si ritrovò alquanto occupato ora Nufferton iniziò a considerare l'alimentazione del maiale in diseno col proposito di migliorarne il rendimento come produttore di carne b. l'acclimatazione del maiale esotico e la conservazione delle sue caratteristiche distintive Pinecoffè rispose esaurientemente che il maiale esotico si sarebbe fuso con il tipo indigeno e a dimostrazione di ciò citò delle statistiche relative all'allevamento dei cavalli la questione secondaria venne discussa lungamente da Pinecoffè finché Nufferton non riconobbe di essersi sbagliato e tornò alla domanda precedente quando Pinecoffè ebbe completamente esaurito le proprie cognizioni riguardo ai produttori di carne dalle fibrine al glucosio e alle componenti di azoto nel Gran Turco e nell'erba medica Nufferton sollevò il problema dei costi a questo punto Pinecoffè che era stato trasferito da Coat aveva sviluppato una sua teoria sul maiale e l'aveva esposta in 33 pagine in folio tutte accuratamente archiviate da Nufferton il quale ne chiese delle altre questa storia andò avanti per dieci mesi e l'interesse di Pinecoffè per il potenziale porcile parve svanire una volta che ebbe esposto le proprie opinioni ma Nufferton lo bombardò di lettere sull'aspetto imperiale del progetto che tendendo a ufficializzare la vendita di carne suina sembrava fatto apposta per recare offesa alla popolazione musulmana dell'India settentrionale credeva che Pinecoffè avesse bisogno di un po' di lavoro ad ampio respiro dopo i suoi minuziosi e puntigliosi dettagli decimali Pinecoffè trattò i più recenti sviluppi del caso in maniera magistrale dimostrando che non c'era da temere alcun fermento popolare Nufferton disse che non c'era nulla come l'intuito di un funzionario statale per risolvere questioni di quel genere e lo attirò su un sentiero laterale i possibili profitti che il governo trarrebbe dalla vendita delle setole esiste una vasta letteratura sulle setole di maiale e i commercianti di scarpe, pennelli e colori distinguono più varietà di setole di quante non si crederebbe possibile Pinecoffè dopo essersi un po' meravigliato per la sete di informazioni di Nufferton gli mandò una monografia di 51 pagine sui prodotti del maiale ciò lo condusse sotto la guida sollecita di Nufferton dritto alle manifatture di Campor al commercio di pelli suine per selle e quindi ai cacciatori Pinecoffè scrisse che i semi di milagrana erano la cura migliore per le pelli suine e suggerì, poiché i quattordici mesi precedenti l'avevano affaticato che sarebbe stato meglio se Nufferton si fosse allevato ai suoi maiali prima di conciarli Nufferton tornò alla seconda parte della sua quinta domanda come si poteva ottenere che il maiale esotico producesse tanta carne quanta ne produceva in occidente e tuttavia assumesse le caratteristiche essenzialmente sersute del suo consibile orientale Pinecoffè rimase interdetto perché si era dimenticato ciò che aveva scritto sedici mesi prima e credeva di dover riaprire l'intera questione era troppo coinvolto nell'orribile garbuglio per tirarsi indietro e in un momento di debolezza scrisse si consulti la mia prima lettera ossia quella che trattava del maiale dravidico in realtà Pinecoffè doveva ancora arrivare allo stadio dell'acclimatazione essendosi dilungato sulla questione secondaria della fusione dei tipi allora Nufferton scoprì veramente le sue batterie si lamentò con il governo in linguaggio altisonante della scarsità di aiuti fornitimi nei miei fervidi tentativi di avviare un'industria potenzialmente remunerativa e la leggerezza con la quale le mie richieste di informazioni vengono trattate da un gentiluomo le cui cognizioni pseudoerudite avrebbero dovuto almeno insegnargli le differenze principali tra le varietà dravidica e Berkshire del genere sus se debbo ritenere che la lettera alla quale egli mi rimanda contenga le sue serie opinioni sull'acclimatazione di un prezioso anche se innegabilmente sudicio animale sono costretto di malavoglia a credere eccetera eccetera a capo del dipartimento punizioni c'era un nuovo direttore il povero Pino Coffè si sentì dire che il servizio era fatto per il paese e non il paese per il servizio e che pertanto era meglio che incominciasse a fornire informazioni sul maiale Pino Coffè rispose follemente che aveva scritto tutto ciò che si poteva scrivere sul maiale e che gli aspettava una licenza Nufferton si procurò una copia di quella lettera e la mandò insieme al saggio sul maiale dravidico a un giornale del sud che li pubblicò entrambi per esteso il saggio era piuttosto pretenzioso ma se il direttore del giornale avesse visto le pile di fogli scritte di suo pugno da Pino e Coffè sul tavolo di Nufferton non sarebbe stato così sarcastico circa la nebulosa prolissità e la vistosa presunzione del moderno impiegato statale l'assunto tramite concorso e la sua assoluta incapacità di cogliere gli aspetti pratici di una questione pratica pareti amici di Pino e Coffè ritagliarono queste righe e gliele mandarono ho già detto che Pino e Coffè non discendeva da una stirpe di duri quest'ultimo colpo lo impaurì e lo scosse non riusciva a spiegarselo sentiva però di essere stato in qualche modo spudoratamente tradito da Nufferton capì anche di essersi inopinatamente avvolto nella pelle di maiale e che non avrebbe sistemato facilmente le cose con il governo tutte le sue conoscenze volevano sapere della sua nebulosa prolissità e della sua vistosa presunzione e questo lo avvilì perciò preso un treno e andò da Nufferton che non vedeva dall'inizio della storia portò con sé il ritaglio di giornale portò con sé il ritaglio di giornale gridò senza convinzione insultò Nufferton e alla fine si sciolse in una debole e lacrimosa protesta del tipo è crudele da parte tua Nufferton fu molto comprensivo temo di averti procurato un sacco di fastidi non è vero? disse fastidi gemette Pinecoffin non mi pesano tanto i fastidi per quanto seccanti siano stati ciò che mi irrita è questa esibizione sui giornali mi rimarrà appiccicata addosso come una bava per tutta la durata del servizio mentre io ho fatto del mio meglio per il tuo inesauribile porco è crudele da parte tua giuro che lo è non so disse Nufferton non sei mai stato imbrogliato con un cavallo? non mi pesa tanto la perdita di denaro per quanto seccante sia stata ciò che mi irrita è venire preso in giro specialmente quando a farlo è proprio il ragazzo che mi ha imbrogliato ma ora credo che potremmo chiudere la questione Pinecoffin non trovò da dire altro che improperi allora Nufferton sorrisse con grande dolcezza e lo invitò a pranzo non trovò da dire Grazie a tutti